Un ringraziamento speciale a Omar, Omalkri, Danideve, Pinkumoci Ci hanno sponsorizzato su Dario Mocha Twitch Posting grazie a lei assurdo E alla community che si è dimostrata disponibile pur avendo organizzato tutto in due giorni Assolutamente sì, assolutamente sì Un ringraziamento anche personale da tutti i ragazzi della community Che hanno portato avanti questa cosa Bravi, bravissimi, mi è piaciuto molto Ne organizziamo uno per la prossima settimana sicuramente Anche per martedì, volendo, mercoledì In cui io non partecipo e casto unicamente Ma mi hanno detto che il disco è forte Oh, micchia, subito contro uno forte mi avete messo? Ah, me l'avete fatto apposta per buttarmi fuori Buona fortuna a tutti e che perdano anni Madonna, così a ghiaccio però senza neanche farmi riscaldare, veramente Disco, ti distruggo, ti allichilisco Silenzio in chat, per favore, devo concentrarmi Subito la mappa di merda comunque Ma sta usando la tanti cananni? Disco, ti spazzo Tanti cananni, colpa da danni Colpa alla nanni, colpa alla nanni Sono d'accordo Ah no, 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 no Che ho sentito che era dietro Guarda che prova a fare colpi alla nanni Guarda, non puoi fare colpi alla nanni Se non sei nanni Disco, non puoi rubarmi la tattica Aia Forte disco, eh No Ma dai, non mi ha segnato la palla in arrivo Nanni, sveglia però, eh Eeeh Bravo Ho giocato di merda qua proprio Madonna mia Qualcola asciugamanino bisogna stare No Dai però nanni Io provo BOOM Ahia, bravo Sono fortissimo Coppa da Nanni, eccolo, eccolo Il coppa da Nanni Bravo 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 cazzo Niam 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 Oh Ok Ci ho provato Mento il buco Madonna, guarda dove si chiude l'aria No Ok Buono buono, serve un vantaggio Sta mappa è stronza in uno contro uno, è molto stronza Perché si chiude in mezzo e lì in mezzo è tremendo veramente Questo cazzo di ponte è Stronzissimo proprio, stronzissimo Vi fa perdere tutti i tempi di tiro ragazzi Non avete idea Buono Oh oh Come ora Ah Ok Buono Mamma mia Sono in ansia comunque Sono in ansia Capisco che è forte e ho paura di perdere Il mouse Il mouse Buono Minchia Ahia colpa la nanni Buono Noi do Troppo nanni Yes Basta un non nulla Basta un non nulla Che si ribarta le partite Buono Ok Ma guardate Ma che è sta roba? Ma cos'è? Bravo 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 cazzo Yes Bravo cedro Bravo 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 Allora datevi 5 minuti scendo Per vedere se arriva il corriere Abbiate pazienza Vi chiedo scusa Il doppiatore di questo gioco è Dada Bravi bravi Rifatevela adesso Andate a fare in culo Attenzione Come squadra oro Ma la perdo io Eh no però No madonna Sta mappa Comunque Silenzio che adesso Vado in mutare da full tryhard Ok Ok Lo sapevo che mi aveva preso Attenzione Eccolo Ha parato il colpo da Nanni Eh bravo Matte Bam Colpa Nanni Concentrazione Boh mi fa ridere Perché è cringissimo Colpa Nanni È veramente la cosa Una delle cose più cringe Che Che penso sia ma stradetta Nel mondo proprio Però mi fa ridere tantissimo Non so perché Che poi semplicemente Oddio Che pezzi di merda Che pezzi di merda Che pezzi di merda Ho avuto paura Basta Zium Bravo Bravo Matte Bravo Matte Bravissimo Matte Bravissimo